Ciao ragazzi, il video che vedrete è una diretta che io e Rick abbiamo fatto su Twitch. Infatti se non seguite i miei post su community, sulla community di YouTube, io e Rick abbiamo aperto un canale in occasione di questa quarantena, perciò se volete seguirci siamo lì ogni giorno praticamente, da lunedì al venerdì, alle 6 per intrattenerci, per cazzeggiare, per videogiocare ogni tanto e parlare anche di temi importanti che possono interessare chiunque. In questa occasione abbiamo parlato del nostro libro in uscita prestissimo, che in realtà è già in preordine, anzi fino all'11 maggio, e perciò vi lascio il link in descrizione per acquistarlo. Con il preordine non ci sarà soltanto l'autografo di rito, ma ci sarà anche una dedica personalizzata e una tavola extra disegnata dalle mie bellissime manine. In questa live abbiamo parlato di tante cose, abbiamo parlato dell'approccio soprattutto che abbiamo avuto all'horror nel contesto dei racconti della vera nuova carne, ovvero il titolo del nostro libro, e c'è anche il mio speed painting della copertina, quindi vi lascio alla diretta. Non vi è piacere uguale alla paura. Se fosse possibile sedere, rendendosi invisibili, fra due persone su un treno, in una qualsiasi sala d'attesa oppure in un ufficio, la conversazione che potremmo udire non farebbe che girare attorno allo stesso argomento. In un primo momento potrebbe certamente sembrare che la discussione verta su un tema completamente diverso, l'economia nazionale, le vittime degli incidenti stradali, le parcelle sempre più salate dei dentisti, ma tolte metafore e allusioni, ecco che annidata nel cuore del discorso c'è la paura. Mentre la natura di Dio e la possibilità di vita eterna rimangono nel dimenticatoio, rimuginiamo tutti contenti le minuzie delle nostre miserie. La sindrome non riconosce confini. In vacanza, così come al lavoro, si ripete lo stesso rituale con l'inevitabilità della lingua che batte dove il dente duole, ritorniamo pedissequamente alle nostre paure. Ne parliamo con la stessa bramosia di un uomo affamato davanti a un piatto colmo e fumante. Ciao a tutti, ciao e bentornati. Buonasera, in realtà, non buonasera. Eh sì, no, bello perché siete abituati a vederci alle 18. Buon pranzo. Una cosa un po' strana, questa live assolutamente fuori programma alle 12. Fuori dalla comfort zone, dato che stiamo parlando di paura. Di paura, di angoscia, di angoscia. Volevamo fare questa live in un momento non sospetto, fuori dalla comfort zone. Purtroppo la citazione con cui ho aperto la puntata non è tratta dal libro, cioè non l'ho scritta questa cosa, è troppo bella per essere scritta da me. In realtà non è vero. E' tratta da Clive Barker. E ho voluto iniziare da Clive Barker, è una citazione tratta dall'incipit dei libri di sangue, La sfida dell'inferno, perché Barker è stato uno dei grandi ispiratori, in realtà non tanto del... non solo di questo libro di cui adesso andremo ad accennarvi a parlare, ma in realtà del mio modo di scrivere, perché io ho cominciato a scrivere a circa undici anni, dodici anni, i primi racconti di paura, dopo aver letto Clive Barker, che è stata una scoperta incredibile per me, incredibile. E quindi volevo partire da questa citazione bellissima, perché oggi vi parliamo dei racconti della vera nuova carne, che è il nuovo libro in preordine da qualche giorno, che potete ordinare sul sito di Poliniani, e che è il primo libro fatto da me e Ari insieme. Esatto, lui l'ha scritto, io l'ho disegnato, perché sarebbe stato strano il contrario, io che non so scrivere, tu che non sai disegnare, sarebbe stato un macello, invece... Però, 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 Francesco Apintus chiede, Ari ha scritto qualche storia? La risposta è no, però, però, come poi andremo ad accennarvi durante questa live, che credo durerà mezz'oretta, 40 minuti, è successa una cosa molto più bella, perché vedete, molto spesso quando si parla di racconti e illustrazioni, si è un approccio che io ritengo molto sbagliato, cioè si parte scrivendo i racconti, poi chi scrive il racconto manda il racconto all'illustratore, grazie a Donno che ci sta ospitando sul suo canale, e l'illustratore traduce in modo quasi passivo e pedisseco ciò che il narratore ha raccontato. Questo è sbagliato, secondo me, perché ci si perde per strada tutta la creatività dell'illustratore. Infatti è successo, già in alcuni racconti, che io abbia iniziato a scrivere il racconto, perché si parte comunque da un'idea mia, faccio leggere le prime bozze ad Ari, Ari comincia a lavorare all'illustrazione, io quando vedo... Sbattendomene altamente. Quando io vedo le prime parti dell'illustrazione, dico, cazzo, è questo che devo raccontare, e quindi ho modificato alcuni racconti sulla base di quello che Ari mi ha mostrato. Sì, secondo me deve essere proprio uno scambio, perché sono linguaggi diversi, l'illustrazione e scrivere invece con le lettere dell'alfabeto. Però deve essere uno scambio, non devono essere due muri che si scontrano, come in una torre di Babele, in cui si finisce per litigare, perché ognuno vuole far prevalere il proprio linguaggio. Deve essere uno scambio, proprio come si fa naturalmente con l'inglese e l'italiano nelle traduzioni, bisogna mantenere la poeticità pur trasmettendo quel senso che l'autore voleva trasmettere all'inizio. E quindi, secondo me, la libertà artistica è una cosa fondamentale da portare all'interno dell'illustrazione, anche perché se no dopo non ti diverti tu se devi semplicemente fare il traduttore paro paro. Esatto, se sei soldando il corollario del narratore è una schifezza. Poi questo però dipende molto spesso dal fatto che gli autori hanno un ego smisurato. attenzione, io ho un ego smisurato, ma so come usarlo, so come usarlo e so perfettamente che in realtà il mio racconto deve essere arricchito dall'illustrazione, non deve essere semplicemente tradotto dall'illustrazione, sarebbe stupido. E lo stesso anche per gli artisti, perché anche gli artisti hanno un ego smisurato, molto spesso prendono male le critiche che vengono mosse, se magari l'anatomia è scorretta, dicono, eh ma è il mio modo di disegnare, questo è il mio stile, tu non puoi dire niente. Invece no, c'è sempre modo di migliorarsi e di espandere il proprio orizzonte di ispirazioni, proprio grazie ad autori come Rick Duffet. L'ego strilla, vedi, infatti, l'ego strilla mentre l'anima deficiente sussurra in discoteca. Vabbè ragazzi, per chi non ha capito questa citazione recuperatevi la prima puntata del terzo mondo dell'intelletto che è uscita ieri, perché è stato veramente fenomenale, fenomenale. Come nella graphic novel di V per Vendetta, in cui il disegnatore aveva l'idea della maschera di Guy Fawkes. Sì esatto, cioè, il disegnatore deve portare dei contributi pregnanti, concreti, altrimenti veramente cosa serve l'illustrazione se deve semplicemente mostrare qualcosa che è già raccontato. Non è bello. Il tema della carne attinge da qualche modo da Cronenberg. Beh, il titolo in realtà è una citazione da Videodrome. Ah sì. Perché, e qua entra un po' nel vivo di che cos'è il libro, il... purtroppo non sono riuscito a raccontare veramente la psicopatia di ari, ma ci riuscirò un giorno o l'altro. È l'ultimo racconto, quello che non si deve leggere. C'è un racconto in cui Cronenberg è protagonista, cioè è proprio personaggio di un racconto, perché in un racconto, io non voglio spoilerarvi nulla, però c'è Cronenberg che gira il sequel di Videodrome. E quindi, questo è una citazione da Videodrome, lunga vita alla nuova carne, che nel nostro libro diventa lunga vita alla vera nuova carne. E lì lo capirete quando lo leggerete. Prima di passare poi al concreto, vi ricordo che il libro è in preordine adesso, quindi utilizzando il link che sto mettendo in chat di nuovo, voi potete preordinare il libro, che poi sarà disponibile, e se lo preordinate vi verrà spedito direttamente a casa, sì, il preordine sarà attivo fino all'11 maggio, poi il libro sarà disponibile a giugno, nella seconda metà di giugno, e se farete il preordine, voi potreste chiedere, vabbè, aspetto che esca il libro. Se fate il preordine però, che è molto importante, anche perché ci aiutate molto con il preordine, sappiate che avrete non solo il libro, ma anche una tavola inedita diari, in formato poster, e ovviamente le dediche e gli autografi del caso. Quindi fate il preordine se vi interessa il libro, perché sarà una bella cosa, una bella cosa, leggo strilla, esatto, esatto. Prima di passare al libro, vorrei dire che la chat di Discord già funziona, perché ieri è arrivato il primo meme, il primo meme che mi ha fatto molto ridere, quando leggi minima moralia, bellissimo, peraltro devo dire che la mia espressione è molto eloquente, però ancora di più è eloquente la tua espressione, di tu da dietro che mi guardi, come dire smettila di fare lo stronzo, stop, stop, molto bello, molto bello, che se volete avere accesso alla chat di Discord, abbonatevi al canale, fatelo, 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 ma direi adesso di entrare nel vivo, che ne dici? Quello che vi mostreremo oggi, sarà un po', insomma, vi parliamo del libro in sé per sé, e poi c'è anche lo speed painting della copertina diari, allora ribadisco, ribadisco, il libro è in preordine, al link che sto mettendo in chat adesso potete fare il preordine, per chi lo sta vedendo indifferita invece potete tranquillamente recuperarlo dai link in descrizione, fatelo, e vi arriverà il libro con una tavola originale e inedita che non trovate nei racconti. Fra i racconti non c'è soltanto, non ci sono solo miei racconti, ma c'è anche la prefazione di Morte Bianca, e ci sarà anche un libro di Sinergo, Mario Palladino, che partecipa da special guest a questa produzione, insomma, che spero vi piacerà molto, speriamo vi piacerà molto. Se ripeti il nome diari tre volte ti appaiono le sue faccette allo specchio. Esattamente, esattamente. Vi infesteranno i sogni. Vincenzo, più copie preordinate più tavole? La tavola inedita sarà una, però se tu ordini tre copie, ogni copia avrà la sua tavola, però la tavola sarà una, ovviamente non sono tavole diverse, perché è un'inedita. La tavola non è una tavola da surf, è una tavola normale. E questa non è una citazione dal libro dell'Ordio, ed è incredibile perché sembrava, ma non è così, non è così. Va bene, va bene, va bene. Allora, partiamo dalla tua, dalla tua, dal tuo speed painting, che dice, poi parliamo un po' del libro in generale. Dai. Partiamo dallo speed painting, che ho fatto con Procreate. Procreate ha questa funzione fantastica, che ha già la cattura di schermata, velocizzata, integrata, quindi non devi nemmeno registrare, con un'applicazione esterna, lo fa in automatico. E quindi, questo è lo sketch iniziale, da cui sono partita. Io quando parto con un'illustrazione, a cui tengo, parto sempre dal cartaceo, perché ritengo che, c'è un'energia nel flusso, che hai con la mano, su carta, che si perde molto spesso, sul digitale. Sul digitale, tu tendi subito, a fare forme artificiali. Invece, bisogna sempre partire da qualcosa di organico, perché ti aiuta molto di più a comprendere quello che vuoi trasmettere, quello che vuoi inquadrare per bene. Parti pure. No, io non scrivo invece su carta, io vado direttamente a digitale, ragazzi, impossibile scrivere su carta. Grazie GM per l'abbonamento, benvenuto, benvenuto in questa ciurma. La tua faccetta, bellissima. Va bene, dai, allora io faccio partire lo speed painting, e tu blattera, mi raccomando. Io blattera. Blattera. Ecco, qui vediamo, faccio tipo i commentatori del basket, qui vediamo che palla la passa. Cosa stai dicendo Ari? È il tuo disegno, parla del tuo disegno. Eh, che dire, allora, io in realtà non so a che mano mi sono istituita, ispirata, avevo questa idea in mente, no, non la tua, ho preso come reference la mia mano, quindi mentre disegnavo ero così, tipo, e disegnavo su parte. Ma non è neanche lontanamente la tua mano? Lo so, perché io volevo approcciarmi un po' con l'idea di una mano un po' stramba, un po' bislacca, come quella di Egon Schiele, e che poi è andata un po' a rifinirsi in modo bislacco, nel senso che ci sono certe parti che sembrano più vesciche che cuscinetti normali delle dita, poi non so come si chiamano le cose anatomiche, però, sì, sono partita a pensare di fare un po' di fumetti che emergevano dai totem, perché poi in realtà è una idea che abbiamo avuto insieme con Rick, Rick mi ha proposto quest'idea di fare magari una mano che fosse un po' paurosa, e poi abbiamo voluto metterci un occhio, perché ricorda un po'... Interessante, Pietro Bolsi, la mano bianca di Saruman, vabbè di Saruman, ma di Saruman... Saruman... È vero che ricorda la mano bianca di Saruman. È vero, è vero. E poi una cosa di cui non mi sono resa conto, che mi hanno scritto in molti, è mi piace questa copertina allo stile labirinto del fauno, che effettivamente Guillermo del Toro è uno dei visionari che mi ha più influenzato durante la mia adolescenza, durante la mia infanzia, durante la mia infanzia veramente mi ha traumatizzato, però ha dato i suoi frutti, però è vero, perché c'è anche un personaggio che ha gli occhi sulle mani, che fa così, e madonna che scena inquietantissima in quel film, e ho voluto lasciarlo un po' saturato, però non troppo mi hanno ispirato molto Santiago Caruso e Remedio Svaro, che hanno questa estetica un po' terrosa, un po' ancestrale, quindi c'era anche un po' un che di egiziano nell'occhio che volevo trasmettere, e poi ricorda molto anche i Tralfamadoriani, perché naturalmente... Tralfamador, avete presente? Mattatoi numero 5, è interessante, perché la descrizione che fa Vonnegut di questi alieni è di uno stura lavandini con in cima una mano e un occhio al centro. Esatto. Ora, visto che lo chiede anche Strammax, che chiede la copertina, ha a che fare direttamente con qualche racconto oppure ne rispecchia solo il mood? No, ne rispecchia il mood tranne per i totem, se prestate attenzione ai totem, vedrete degli elementi, c'è una croce, poi c'è un polpo... Un polpo avvinghiato, sì, esatto, una ciminiera, poi sì, c'è una ciminiera. qualcosa di legato ai racconti, ma trasmette il mood dei racconti, perché poi i racconti hanno un aspetto in comune, sono letteralmente dei modi in cui i corpi si trasformano, cioè sono tutti racconti che narrano la trasformazione dei corpi, ok? Infatti i racconti della vera nuova carne, la vera nuova carne è che si tramuta, si trasforma, cambia, e quindi questo è un elemento che viene trasmesso. Elena Cernero mi chiede se si può comprare con 18 app, devo chiederlo all'editore, non lo so, adesso in diretta glielo chiedo, così nel frattempo tu se vuoi andare avanti a raccontare questa cosa. Sì beh, non penso ci sia tanto altro da dire, queste sono le ispirazioni che mi hanno colpito e che mi hanno portato a fare questa mano, devo dire che è forse una delle prime illustrazioni che partono proprio dalla mia idea iniziale e finiscono effettivamente per essere più o meno come le avevo immaginate e quindi sono molto soddisfatta di come è uscito fuori, mi piace anche lo sfondo, appunto sempre ispirato a Remedio Svaro, Svarione, sì, Remedio Svaro che ha questi colori terrosi che ricordano un po' le caverne, ricordano un po' le pitture rupestri e ah beh, effettivamente una delle mie opere preferite è in realtà una foto della Queva della Smanos che è penso in Brasile che è questa caverna questa caverna con tutte le mani con tutte le impronte delle mani dei popoli dell'antichità e mi colpisce talmente tanto pensare cioè proprio una cosa che mi manda fuori di testa pensare che tutte quelle mani appartengono a persone che non sono più qui da tantissimo tempo eppure sembrano le nostre mani è una cosa che davvero mi... la mano è una delle cose che ci caratterizza di più e quindi è mutata eppure è ancora l'aspetto più duraturo della nostra evoluzione mi dicono dalla regia che il preordine non si può fare con 18 up quindi no è solo dal sito di Polignani si può fare in teoria esatto 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 allora qui lo spill painting è terminato esatto e poi naturalmente la copertina qui l'illustrazione è passata per le mani di Corrado Polini che ha fatto l'editing con il titolo e tutto e la versione finale è questa che potete vedere appunto nella pagina del del preordine esatto ovviamente inframmezzato al titolo in sé per sé comunque poi sui nostri social potete trovare anche l'illustrazione senza senza le parole quindi completa integrale sì mi è piaciuto molto del titolo il fatto che le lettere si intrecciano ai totem secondo me è molto interessante come scelta aspetta che ingrandisco così faccio vedere questa cosa qua perché è bella se voi guardate non penso che tu possa ingrandire ma ci mancherebbe se voi andate a guardare aspetta perché è un po' un casino porca miseria ah ok se voi guardate in racconti in particolare la N sembra una volta da qui da qui spunta quella figura mostruosa che non vi spoiler cos'è anche dalla D della vera carne spunta quella mano terrificante insomma sì ci siamo divertiti ci siamo divertiti ci siamo divertiti quindi ecco da un punto di vista invece narrativo vabbè una citazione un punto di ispirazione l'ho già l'ho già citato ed è Clive Barker io di Barker ho sempre amato alla follia il fatto che la sua è una letteratura barocca ma riesci a usare elementi barocchi in modo essenziale cioè è una letteratura ricca di metafore di figure retoriche e a volte addirittura molto logorroica però quando tu analizzi e vai a guardare ti rendi conto che cavolo non puoi fare a meno di nulla delle cose che ti ha dato Barker e credo che sia importante perché io non sono un amante del barocco non mi piace quasi mai il barocco però nell'horror fatto in quel modo lì impazzisco e quindi ho cercato di creare dei racconti di questo tipo i racconti hanno tanti temi sono legati appunto della trasformazione della carne però sono tutti racconti che hanno un fil rouge molto filosofico e una delle idee per chi ha letto Spinoza e Popcorn una delle idee veramente centrali di questo libro nasce da un capitolo di Spinoza e Popcorn quello in cui parlo di Spinoza e Cartesio quando discutendo di Altered Carbon e della relazione fra anima e corpo dico quella roba lì importante noi diciamo che abbiamo un corpo ok ma noi non abbiamo un corpo noi siamo il corpo io non ho una mano io sono la mia mano non ho un cervello sono il mio cervello solo che questo dualismo cartesiano si è sviluppato in molti modi al punto che noi ci siamo in qualche modo convinti che la parte eterna della nostra vita sia l'anima e la parte transitoria morente sia invece il corpo che va in decomposizione schiatta tira le cuoie mentre noi sopravviviamo in realtà anche se lo sappiamo l'anima in discoteca sussurra mentre l'ego strilla al di là di questo però anima e corpo sono la stessa cosa la mia anima è il mio corpo io sono la mia anima è il mio corpo il mio corpo è la mia stessa animazione e quindi si parte da questa cosa e quando il corpo cambia non cambia solo il corpo cambiano tanti elementi della vita e io ho cercato di scrivere questi otto racconti narrando i modi in cui noi viviamo la trasformazione ovviamente portandola alle estreme conseguenze vabbè se volessi fare qualche qualche minimo accenno in uno dei primi racconti l'idea del conosci te stesso viene portata alle estreme conseguenze perché mostra che conoscere se stessi in realtà è una cosa terribile perché conoscere te stesso significa entrare in contatto con quella parte del tuo corpo e quindi della tua anima che davvero non conosci e che quando conosci rischia di emergere in modi inaspettati il corpo in questa raccolta cambia anche nell'ambito c'è un racconto che narra una apocalisse zombie ok c'è un apocalisse zombie in cui per sopravvivere tu devi trasformare il tuo corpo in un modo molto particolare che non posso assolutamente accennare quindi devi affrontare anche i limiti del corpo per la tua stessa sopravvivenza altri racconti per esempio c'è quello appunto su Cronenberg visto che la citazione da Videodrome sta alla base del titolo e non solo Videodrome è un film che se non avete visto dovete vedere perché è un capolavoro totale è un film che racconta proprio questa idea cioè il modo con cui la tecnologia e tutto quello che ci circonda cambia il corpo cioè in Videodrome cosa è che succede? Succede che sulla base di quello che tu vedi nella televisione ti cambia la carne ok e cambiando la carne stravolge la tua vita ecco allora anche nel racconto su Cronenberg Cronenberg si troverà come personaggio stavolta non come regista dover vivere dei cambiamenti decisamente un po' fastidiosi per lui quindi insomma ho cercato di raccontare il concetto di mutazione e quindi c'è tantissima filosofia dentro cioè c'è proprio un sostrato di filosofia che io credo sia chiaro però non sono racconti che cadono nell'intellettualismo ecco perché io poi c'è un altro aspetto odio coloro che usano la narrazione per trasmettere idee filosofiche in modo un po' cattedrafico per farsi sentire più superiori più intelligenti rispetto al lettore in realtà io sono abbastanza convinto perché è successo a me scrivendoli che durante questi racconti non solo vi spaventeremo ma vi disgusterete troverete delle idee ripugnanti e io credo che sia uscito veramente qualcosa di di horror nel vero senso della parola cioè io scrivendo c'è un racconto di fantasmi ci sono racconti c'è un racconto di mostri cioè tutti gli archetipi dell'horror ci sono ma ho cercato di spaventarmi ecco e questa è la cosa che secondo me funzionerà in questo libro è che funziona che io per primo mi sono spaventato e disgustato e io ho letto i racconti ad Ari in prima come prima persona è la prima lettrice dei miei racconti e sono scappata fuori dalla finestra urlando dopo sono dovuta andare in ospedale perché appunto erano comunque era comunque qualche metro che cadevo e quindi niente è andata così comunque il programma che ho utilizzato è Procreate esatto con l'iPad Pro esatto abiezione come parola chiave bellissima parola abiezione sì sono ecco sono racconti abietti c'è anche del grottesco dentro Deborah sì c'è ci sono elementi grotteschi e la cosa veramente importante ripeto io quando scrivo una delle cose che mi pongo che insegno anche i miei studenti di scrittura creativa è tu devi vivere la sensazione che vuoi scatenare nel tuo lettore cioè se tu scrivendo un racconto di paura non ti spaventi c'è un problema sì io scrivendo questi racconti ho provato sensazioni molto fastidiose cioè i personaggi dei miei racconti mi hanno portato a provare sensazioni fastidiose quindi sono molto sicuro che quando leggerete questo libro proverete quelle sensazioni magari perché no anche amplificate sì per fare horror secondo me tu devi fare più e più esperienza di ciò che tu non riesci a comprendere in primo luogo perché l'horror viene scaturito da qualcosa di razionale comunque infatti gran parte dei soggetti dell'horror sono mostri che non sono non sono reali insomma e quindi secondo me entrare in contatto con questa parte del cervello che non sa elaborare in modo realistico le cose che gli vengono presentate di fronte agli occhi è molto importante per riuscire anche a spaventare gli altri intanto grazie a Stramax per l'abbonamento e per il sostegno grazie Luca Bellettini chiede come per Spinoza e Popcorn non è riconoscenza delle illustrazioni in questo caso di Ari sono stati due processi creativi totalmente diversi perché in Spinoza e Popcorn io comunque scrivo i capitoli li mandavo all'editore e Daniel lavorava sulle illustrazioni che poi mi venivano mostrate a ridosso della pubblicazione qui invece è stato uno scambio molto più continuo anche perché io e Ari viviamo insieme io con Daniel qui io invece no anzi non l'ho neanche mai no l'abbiamo incontrato in personale Luca Comics è vero anche se un po' da distante quindi no una cosa tutta diversa qui la cosa veramente interessante è che durante la stesura vedendo gli stimoli illustrativi di Ari io ho modificato la stessa stesura c'è in particolare un racconto un racconto che si intitola My Body is a Cage che io ho scritto Ari ha fatto l'illustrazione e quando ho visto l'illustrazione ho detto no cazzo no devo cambiare il racconto devo cambiare il mood del racconto e quindi l'ho letteralmente riscritto quindi in realtà è molto più un interscambio quello che c'è stato e credo che questo sia molto molto evidente quando poi vai a vedere la relazione fra illustrazione e racconto e funziona cioè nel senso funziona io non smetterò mai di ripeterlo a tutti quanti gli autori di racconti che lavorano ma anche gli sceneggiatori per esempio che lavorano con fumettisti non considerate le vostre parole come intoccabili perché l'illustrazione deve entrare nelle parole e anche modificarle è fondamentale è fondamentale perché questo rende il libro senza le illustrazioni non sarebbe mai la stessa cosa questo è quello che volevamo che fosse ok perché ci sono tanti libri in cui ci sono le illustrazioni ma vabbè potevi anche leggerti il libro senza le illustrazioni e ciao non è così questa volta questa volta le illustrazioni sono parte integrante dei racconti il tuo senso di trasformazione che hai appena spiegato mi ricorda molto la transustanziazione di Chiana ebbè certo soprattutto un paio di racconti hanno elementi molto molto di Chiani indubbiamente indubbiamente avete letto powers of horror della Kristeva no mi manca me lo segno se merita me lo segno eh sì Procreate è una grande risorsa davvero io prima avevo la Wacom che mi ha sempre regalato Rick la Wacom Intuos Draw mi pare si chiamasse che è un po' la il punto di partenza di chiunque voglia approcciarsi e affacciarsi al mondo del disegno però senza troppi sfarsi senza senza comunque la comodità che Procreate può portarti perché davvero disegnare con un'app del genere ti facilita il lavoro del 90% e quindi lo consiglio a chiunque abbia già imboccato la strada del disegnatore dell'illustratore perché anche se si viaggia molto in questo periodo no però se in generale in futuro viaggerete molto vi alleggerirà un sacco anche proprio della della comodità del tratto della penna molto interessante e curioso appunto come nella creazione di un fumetto manga che sia sì sì assolutamente però non diventare pazzo ti prego ma io lo sono già sì è già pazzo purtroppo devo confermare sì Deborah l'illustrazione è già una narrazione che ripeto di solito viene vissuta in maniera un po' più passiva cioè nel senso l'illustrazione è una cosa a corollario come se dovesse portare qualcosa in più rispetto al racconto è sbagliata secondo me l'illustrazione va trattata come una opera cioè l'illustrazione per quanto possa includere un sacco di tavole un sacco di di thumbnail di come si chiamano di cue non mi viene in italiano visual cue cioè indizi visivi sì tracce pattern sì sì però ci sono cioè praticamente c'è un processo che hanno gli artisti di fare piccole thumbnail proprio le storyboard le storyboard esatto grazie non mi veniva in mente anche una anche le storyboard per quanto includano più illustrazioni all'interno secondo me vanno trattate come un'opera vera e propria perché l'illustrazione 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 siamo persi è terzo mondo dell'intelletto in chat terzo mondo dell'intelletto perché l'illustratore mette tutto se stesso all'interno mette la propria visione mette il proprio senso artistico sto mettendo in chat il link per il preordine andate a preordinarlo error 404 comunque mi chiedevano Lovecraft quanto peso ha avuto come ispirazione ma che ve lo dico fare cioè nel senso non è un caso che abbia proposto la settimana tematica su Lovecraft mentre lavoravamo su questo libro è stato molto invasivo ci sono in particolare due racconti un racconto si intitola Il confine e l'altro si intitola Impressioni che sono molto molto dentro l'immaginario di Lovecraft anche se poi io credo soprattutto stilisticamente di avere un approccio totalmente diverso rispetto a quello di Lovecraft però però si è stato un punto di ispirazione fondamentale mai visto qualcosa del figlio di Cronenberg si si ho visto ho visto antiviral l'ho visto però non io non l'ho visto non mi è particolarmente piaciuto grazie Warmoroboros grazie grazie per l'abbonamento e per il sostegno il racconto di Edgar Allan Poe il corvo certo certo assolutamente mi piace tantissimo il cuore rivelatore è tipo Ari fra Lovecraft e Poe preferisce Poe io invece sono mi sento tanto tanto vicino è più nevrotico quindi mi piace di più ho fatto ascoltare i tuoi podcast su Lovecraft a mia madre il giorno dopo ordinato tre libri bene Federico bene bene sono contento diffondiamo Lovecraft le nuit la noia chiede Andrea può essere considerato argomento per un racconto horror secondo voi potenzialmente qualsiasi argomento può essere trattato dall'horror io ci sono autori ma se prendi Clive Barker Barker è un autore che ha veramente spaziato fra mille meandri usando l'horror per raccontare l'amore l'amicizia per raccontare l'insicurezza quindi qualsiasi tema può essere raccontato attraverso l'horror è che è difficile farlo perché perché l'horror è un genere molto polarizzante emotivamente anche stilisticamente quindi è difficile raccontare cose diverse con l'horror e se voi guardate l'80% della letteratura del cinema dell'horror raccontano sempre le stesse cose esatto e però lo puoi fare è che è difficile è un linguaggio che va padroneggiato io stesso vi dico amo scrivere di horror proprio perché è una sfida cioè è sfidante l'horror non è facile non è facile devi fare un processo psicologico devi vivere devi subire i tuoi racconti secondo me questo è il punto fondamentale Winnie the Poe bello Winnie the Poe sono tutti racconti fatti ex novo hai ripresi vecchi i tuoi racconti allora due dei racconti dentro questa raccolta sono riscritture di racconti che ho scritto prima del 2010 racconti a cui ero molto molto affezionato e che ho voluto fortissimamente rivedere alla luce di quello che sono diventato negli ultimi anni quindi sì sì poi invece gli altri sono tutti ex novo poi alcune idee dentro alcuni racconti sono idee comunque di un po' di tempo fa però MyPayPapi si è abbonato abbonata grazie 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 vi ricordo abbonati di accedere alla chat di discord e lo lo potete fare sì lo potete fare in automatico unendo il vostro account twitch a discord e quindi fatelo comunque io non so a voi ma è quasi luna e io sono ancora tormentata non si è ancora svegliata la Rescogitan ma perché poi si sveglia entro sera di solito non si sveglia oh vi ricordo che stasera alle 18 cominciamo la nuova avventura in blind run non mancate sarà una bella sorpresa allora aspettate che c'erano delle domande allora Pride dice grazie alla live con morte bianca ho recuperato alcuni racconti che non conoscevo di HPL Lovecraft in particolare sono rimasto colpito da Azatot secondo te è più una poesia o un racconto? in realtà Lovecraft ha provato a fare poesia no in realtà capisco quello che intende intende dire quei brani di presentazione dei grandi antichi perché lui ha scritto dei micro racconti tipo quello che ho letto su Nyarlathotep molto poetico in realtà sono comunque prose diciamo che sono delle prose molto poetiche mi verrebbe da dire che sono molto più simili a preghiere che racconti esatto delle litanie sì esatto litanie in prose a proposito di horror cosa ne pensate di Dylan Dogg lo leggete ancora io amo Dylan Dogg è il motivo per cui l'horror mi diverte così tanto perché da piccola rubavo di nascosto i Dylan Dogg a mio fratello che aveva una collezione infinita e li bruciava no brutta brutta non si fa non si fa non si bruciano i libri ragazzi ricordatela se no fate una brutta fine e questa è una minaccia e c'era mia mamma che non voleva assolutamente che io leggessi quei libri e quindi diventava ancora più divertente leggerli naturalmente perché quando qualcuno ti proibisce di fare qualcosa tu ti ci butti ancora più a capofitto quindi Dylan Dogg io Dylan Dogg l'ho letto non sono mai stato un amante di Dylan Dogg preferivo altre cose di Bonelli però però si no alcune cose sono molto molto belle ma perché Ari sta diventando impazzio per il fatto di addormentarsi e non avere mai il Res Cogitans l'horror Stephen King è molto psicopatico l'horror raccontato così mi piace non ho capito se è una domanda una considerazione Stephen King è un autore che che mi piace in alcune sue opere e non mi piace per la stragrande maggioranza della sua opera c'è qualche storia dell'horror riguardo l'attuale fase 2 in realtà in realtà c'è un racconto che si intitola Il Confine e che è un racconto che in modo molto metaforico racconta quello che stiamo vivendo però non posso dire altro perché vi siete mai insegnati qualcosa riguardo la vostra professione in materia di studio e vicendevolmente madonna continuamente Ari continua a farmi conoscere artisti che non conoscevo che mi stimolano moltissimo lui prova a farmi conoscere filosofi però non me li ricordo mai cosa vuoi quando la res cogitans non si sveglia quando sei il terzo mondo dell'intelletto in chat via col terzo mondo dell'intelletto ma è grazie a questo che io posso esprimere il mio flusso creativo grazie alla mia inconsapevolezza terzo mondo dell'intelletto domanda di Snake o Vert non lo so Rick non riesco a leggere Dostoevsky non lo so reputo troppo pesante perché ancora non ho letto tanti libri era una considerazione non è che per forza debba piacere un autore adesso non so quanti anni hai non so quali sono le tue letture pregresse Dostoevsky è un autore impegnativo e magari un autore che se attualmente non ti cattura puoi tralasciare e riaffrontare fra 5 anni 10 anni questo secondo me è quello che ti direi 28 anni cioè nel senso mettilo da parte e magari lo affronti quando hai 33 anni è uno di quegli autori che forse necessita di aver fatto qualche esperienza di vita particolare prima di venire veramente veramente preso e utilizzato per sé bene io non so abbiamo qualcosa da aggiungere abbiamo detto tutto mi sembra di sì ho sonno ho sonno allora voi preordinate il libro lo ribadiamo il libro è in preordine e lo sarà ancora per circa 10 giorni due settimane potete preordinarlo dal link che metto adesso qui in chat fatelo preordinatelo il preordine non solo è importante per noi ma vi farà arrivare oltre al libro quando uscirà il libro quindi seconda metà di giugno vi farà arrivare a casa anche una tavola illustrata inedita diari extra e ovviamente le dediche e tutto quanto quindi insomma fate il preordine e cos'altro possiamo dire basta è stato bello passare il mezzogiorno con voi con voi ci rivediamo alle 6 alle 18 mi raccomando non mancate si parte con la nuova blind run io con to the moon mi sono divertito tantissimo ed è stato sorprendente fare un'esperienza di blind run ovviamente però è un gioco che è durato quanto 7 ore abbiamo fatto di blind run il prossimo sarà un po' più un po' più importante come durata e ci divertiremo tanto non vedo l'ora non vedo l'ora sapete che è un gioco che potrebbe farmi incazzare tanto ma non dico altro non dico altro no non si preordina su amazon si preordina sul sito di polignani punto com questo è il link del preordine non si può prenotare da nessun'altra parte bene direi che ci siamo adesso andiamo a pranzare voi fate i bravi buon pranzo buon pomeriggio ci vediamo alle 18 e non dimenticate che non è tutto noia ciò che spaventa spaventa perché come dice Richard Benson ti devi spaventare non siamo capaci a fare Richard Benson ma va bene così ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti